Ci diamo appuntamento alla spiaggia di Kepos e durante il tragitto cominciamo a conoscere i primi piedrero. Mi chiamo Luis. Luis, parla a me. Sì, uguale. Mi chiamo Marjorie Morale Furnante. Usted fuma crack? Eh, sì. Tu vuole coca? Ah no. E riunito il gruppo, siamo pronti per l'intervista. Come vi chiamate? Rude, Marjorie, Hector. Guapo. Guapo! Rude, Marjorie, Hector e il Guapo, il Bello. Da quanti anni è che fumi crack? Hace 10 anni. Come si comincia? Io lo cominciò nella carcel. Perché sei stato in prigione? Perché fui psicotropico, traffico penale. Chi ti ha iniziato? Io lo compri nella carcel. Quanto costa una dose di crack? Una dose di questa 1000 colones aquí. 1000 colones in Costa Rica vuol dire 2 dollari? Eh, la playa qui cuesta 1000 colones. Però in la capital variano i prezzi di 500-200 colones. Come hai fatto il crack? Cocaina con bicarbonato. Cocaina con bicarbonato e acqua. Perché questa composizione? Perché è corto e perché si ponga così. Adesso tu stai fumando? Sì. Si fuma come una sigaretta? Ecco. Cosa senti? Cosa ti dà il crack? Che mi ha dato il nana, mi ha dato la felicità. Felicità? Sì, mi ha dato la felicità, mi ha dato la felicità. Quanto crack riuscite a fumare in un giorno? 3000 dollari in 4 giorni. 3000 dollari in 4 giorni? Come fai ad avere questi soldi? Ah, questa plata la scortia e io rubandola. A chi la rubavi? A un gringo. Gringo vuol dire americano, giusto? Sì. Come facevi a rubargli questi soldi? Da qui si dormiva e io me lo lleve. Ah, mentre dormiva? Sì. E a che posto c'è un cimitero dove voi abitate? Sì, 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 hai sus tumbas e tutto, però è abbandonato. Perché? È molto bello. Il che entra sale assustato. E se adesso io vado dentro il cimitero, cosa mi potrebbe succedere? D'ai che salga senza sus pertenenzias, senza su dinero, senza su camera. Che hai fatto la testa? Ah, una caccia e una pistola. C'è gente armata nel cimitero? A veces. Pistole? No. La polizia non entra dentro il cimitero? Sì, entra molto e molestano. Il dia Costa Rica, che è il dia dei defunti, quindi si rispetta questo dia per che vanno e si può entrare e si può entrare e i defunti possono entrare nel cimitero una volta all'anno. Dove neve. Ah, la festa dei morti. Cosa fate dentro al cimitero? Dove dormite? Arrivare le tombate e dire, una napia. Ah, sopra il marmo della tomba? Sì, sopra il marmo della tomba. Ciascuno di voi ha la propria tomba? No, no, c'è chi scoglie la che vuole. Quindi ti puoi coricare dove vuoi? Sì, claro. Perché è proprio un cimitero e non potete dormire qui sulla spiaggia? Perché la polizia, dopo che il turista vede, le persone sono addicte a fare, quindi per vivere qui. Tu quanto crack fumi al giorno? Tutto quello che puoi. Tutto quello che puoi. Si muove così perché ha voglia di crack? Perché hai voglia? Non c'è necessità. E non c'è n'è? Dove prendi i soldi per fumare il crack? L'impio, se è il caño, cappello, buonitato, tutto di lato. E il vostro unico obiettivo oggi è quello di fumare crack? Bueno, io trabajo mucho en el día. Nella noche fumo. Qualcuno di voi è sposato? Con la piedra, sì. A me lo mandando. A me lo mandando. Tu di lavoro cosa fai? Diamo, stavo con los carros de pollo, barrocaño, limpio casas, compro cosas y revendo. Tu cosa fai di lavoro? A patrannar. Come imbrogli la gente? Tomo un crack, mil colones. Y dan los mil colones y ya no lo crack. Allora, lei dice, Tom, mil colones, questo è crack. Y no hay nada. Il cliente compra, apre e non c'è niente. No, no hay nada. Y ya ya se fue. Quindi freghi la gente così? Sí, le mando todo. Ascolta, ma chi compra il crack? Anche i turisti italiani? Quanto turista compra crack? Paga mucho, mucho. Quanto lo vendi al turista? Depende, a veces 5 mila, a veces 100 dollari. 100 dollari un pezzo di crack? Sí. Che lei ha pagato 2 dollari? Sí. Riesce a guadagnare mucho dinero? Demasiado. Yo tal vez compro una piedra y a veces la parto. Tengo mi fume y tengo para otra piedra. Ah, quindi la taglia, una parte di pietra se la fuma, l'altra la vende. Si riesce ad uscire dal crack? No, la primera vez, si tu fumas, te adicto para siempre. Para siempre. Perché non tirate cocaína e preferite invece fumar el crack? El proceso de adicción ha sido cigarro, marihuana, alcohol, otro poco de cocaína y después crack. Más años adelante, otra droga más fuerte. Cuando uno ya está en adicción, la familia comienza ya a desconfiar de uno, entonces ya ellos no están tranquilos. Entonces ya uno también se siente mal, mi amor prefiere irse antes de estar haciendo más daño a la familia. ¿De crack se puede morir? Sí. Sí. Ya han muerto más mis amigos. Ya han muerto. ¿Son muertos tus amigos? ¿Son muertos tus amigos? Pero actualmente la mayor mortalidad de eso es por violencia a las personas. ¿Cosa es? ¿Aluminio o ferro? No, alambrina. ¡Venga! 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 ¿El crack inibisci anche l'attività sessuale? No, a mí me ayuda. ¡Ah! ¡Ayúta! 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 Tu vai a comprare crack al cimitero. ¿Tú? Igual. ¡No! 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 Se yo vengo con vos, ¿puedo entrar al cimitero? Sí. ¿Vamos? ¿Telecamara? Sí. ¿Tú permites? Allora, la nuestra guida Donato, mientras estamos andando, le fa una raccomandación. Oh, no quiero ponerme a mi amigo en peligro, porque yo sé que aquí arriba es peligroso. Entonces vamos, pero no quiero molerlo, porque es bravo. Tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Dime. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¡Ahú, qué fue! Ahora sí me va a dar el cigarro, macho ya. ¡Ahú! ¿Qué pasa con mi gargo? No me sigo algo, ma... ¿Cómo? La tuая gargadora? No. ¿Esposa? Sí, es una persona de junta. Pero... Es... ¿Voy dormite aquí abajo? Sí, yo no. ¿Tú no? Un otro? una persona che si chiama Nathalie Castro si, nel 73 ma c'è un po' più viello come diciamo 1923 è molto vecchio tu dormi qui? a la notte a la notte dormi qui? si, il giorno di qui? il giorno di qui? il giorno di dormire molte persone, tanto è la minorità della mentalità di loro che si perdono e poi riparano hola amico sombra sombra, buona onda, originale o una mentira Luis! da quanti anni fumi crack? hace molto tempo nessuno compra 1000 colones di miedo di pietra? piedra di miedo perchè sa cosa gli può succedere? oggi fuma maggiorni chiede 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 quindi, che passa? Luis, ciao! il nostro giro all'interno del cimitero di Kepos è finito qualcuno di loro ci accompagna all'uscita ma non per galanteria in realtà sono interessati solo una cosa ma è la prima ora, l'ultima vez che lo asso perchè, usted sa che io non regalo plata, eh?